Presenza di idrocarburi in una fossa biologica delle case popolari in via Ieta di Praia Mare, in pieno centro cittadino per intenderci e poco distanti dal corso della fiumarella. Questo è quanto rilevato da recenti controlli effettuati dalla Polizia Municipale dell'Ente della città dell'Isola Dino che hanno dato luogo alle analisi dell'Arpagal. Il risponso non è dei migliori vista l'alta incidenza, ma mette in villievo lo sforzo dell'amministrazione comunale di risolvere un problema che ormai si trascina da anni e che in un certo modo potrebbe influenzare anche le acque della fiumarella. L'aspetto principale della vicenda è che il comune di Praia Mare ha informato l'Aterpe e ha anche intimato l'Ente che gestisce gli alloggi popolari a sanare subito la situazione. Le fuoriuscite di idrocarburi hanno potuto contaminare il terreno sottostante e la falda freatica in quel punto molto superficiale. A preoccuparsi di tal aspetto anche Italia Nostra ha altro Tirreno Cosentino che chiedeva guagli visto che bisognerà provvedere anche a lavori di bonifica e caratterizzazione di quell'area. L'ARPACAL, scrivono da Italia Nostra, non ha ancora eseguito gli eventuali accertamenti di caratterizzazione necessari per stabilire l'effettiva estensione del fenomeno nell'ambiente circostante. Inoltre rimane completamente da chiarire la natura, atipica e del tutto sorprendente del fenomeno in quanto non è comprensibile come sia possibile che idrocarburi pesanti, non ancora meglio qualificati, possano trovarsi presenti nella fossa biologica a cui afferiscono normalmente soltanto gli scarichi delle unità abitative concesse dall'ATERP ai vari privati che le abitano. Infine resta da sapere se sia stata l'ATERP ad eseguire i lavori di allaccio alla rete foniaria e come abbia potuto ancora lasciare attiva senza eliminarla una fossa biologica pergiunta senza fondo e quindi disperdente, che anche in assenza del supplementare inquinamento da idrocarburi poi verificato, si sarebbe stata già soltanto per questo in grado di provocare notevoli danni da inquinamento dell'ambiente.